La collettività di Canzano, ancora una volta, si è resa protagonista di un gesto di attenzione e solidarietà verso i malati di fibrosi cistica. I giovani dell'associazione canzanese Don't Stop Me Now hanno consegnato al responsabile del centro, il dottor Paolo Moretti, il ricavato della vendita dei calendari realizzati in collaborazione con gli alunni e i docenti dell'Istituto Comprensivo Margherita Hac di Castellalto nell'ambito della terza annualità del progetto solidale Lavorando un Sogno. I ragazzi sono stati subito entusiasti di prendere parte al progetto, le famiglie si sono dimostrate disponibili a concedere la loro autorizzazione e poi hanno acquistato il calendario e hanno contribuito così alla raccolta dei fondi. Si è deciso di devolvere quanto raccolto a un progetto di ricerca molto importante che riguarda il trapianto di polmone. È un tentativo di utilizzare polmoni che in altre situazioni venivano non utilizzati. Significa che c'è un medico, un ricercatore in Lombardia che ha messo in piedi un'apparecchiatura che è in grado di tenere in vita i polmoni per circa 24 ore, quindi permettendo di pulirli e quindi renderli disponibili per un trapianto, polmoni che altrimenti andrebbero persi. Ulteriore donazione al centro è stato lo spirometro, strumento indispensabile per misurare la funzionalità respiratoria dei piccoli pazienti. Anche in questo caso la sfida solidale è partita da Canzano. L'assegno ha un importo di 1530 euro e ringrazio logicamente tutte le persone che hanno acquistato il calendario e che hanno dimostrato infinita sensibilità e bontà verso questo progetto.